Essere sportivi aiuta anche a imparare a vivere, a imparare a relazionarsi con gli altri. È una cosa fondamentale. Impara a gestire le proprie emozioni. Nuoto di gran fondo, in acqua e libere. Il sport è estremamente di resistenza. Diciamo che i nostri globuli rossi sono grossi come i pomodori, quindi possiamo, diciamo, anche noi dare un grosso contributo alla causa. Il mio è un appello a tutti gli sportivi e dico ragazzi donate il sangue, perché innanzitutto non compromettete quelle che sono le vostre prestazioni, perché donare anche solo il plasma sanguigno non comporta alcun danno, diciamo, alle performance sportive. Il sangue di un atleta è sicuramente quello che dovrebbe essere il top. Grazie. Grazie.